Ciao a tutti. Cane non morde cane. Come dire, gli appartenenti ad una stessa categoria non si attaccano eccessivamente tra di loro, non si fanno una guerra eccessiva, si proteggono, non si mordono. Benissimo, quanti di voi hanno letto la notizia relativa alla sfiducia votata da parte del Comitato di Redazione della Repubblica nei confronti del direttore della Repubblica Maurizio Molinari. Alcuni giornali chiaramente hanno ripreso la notizia, Il Fatto Quotidiano ci ha aperto l'home page, credo l'abbia messa anche in prima pagina. Il giorno dopo De Posti Internazionali ha pubblicato una serie di articoli, anche online ho letto diverse cose, però ho notato anche che una serie di giornali avversari dal punto di vista editoriale della Repubblica non hanno spinto eccessivamente, come dire, non hanno morso eccessivamente, appunto perché cane non morde cane. C'è una sorta di protezione in determinati momenti, perché proteggere oggi Maurizio Molinari, che è stato sfiduciato direttore della Repubblica, nonché Molinari è anche il direttore editoriale di tutto il gruppo Getica, un gruppo che possiede, poi ne parlerò meglio, però la Repubblica, la stampa, il secolo XIX, altri giornali, anche se qualcosa sta vendendo, è un gruppo editoriale importante che oggi appartiene a Exor, che è la holding olandese, non c'è tra più niente con l'Italia, guidata dalla famiglia Elkan, l'amministratore delegato di Exor, questa grande holding, appunto John Elkan, questa holding possiede Gedi, una parte di Stellantis, altra compagnia, fabbrica automobilistica che non ha più nulla praticamente a che vedere con l'Italia, alla Juventus, al gruppo The Economist, al gruppo Ideco, tra le aziende di Ideco, tra l'altro c'è la Ideco Defense Vehicles, che è un'azienda appunto che fa parte del gruppo holding, della holding Exor, che produce anche veicoli militari, quindi ci sono anche questi interessi, gli Elkan e Agnelli hanno anche questi interessi. Ecco, vi dicevo che il gruppo Gedi appartiene alla Exor, il direttore del gruppo Gedi è Maurizio Molinari, che è anche direttore responsabile di un giornale importante, per me non più autorevole, ma questo è un giudizio di un ex lettore, non perché non vi siano bravi giornalisti, sia chiaro, comunque per me non più autorevole, tanta che non lo comprò più, appunto la Repubblica. E quindi vi è una sorta di protezione, vi è stata, da parte di alcuni giornali anche teoricamente molto diversi dalla Repubblica, teoricamente. Perché vi è questa operazione di difesa? Perché mostrare con chiarezza le contraddizioni del sistema mediatico, che io reputo eticamente corrotto, eticamente corrotto, da conflitti di interesse e dalla presenza dei cosiddetti editori impuri, mostrerebbe a tutti i lettori, anche a lettori di altri giornali diversi dalla Repubblica, le contraddizioni di questo sistema, che sono evidenti e che per me cozzano con il legittimo desiderio, il legittimo diritto nostro di avere un'informazione libera e indipendente, informazione libera e indipendente che non c'è. Vi racconto questa storia, che cosa è successo? Alcuni giorni fa Maurizio Molinari ha bloccato, anzi non neanche ha bloccato, ha ritirato, mandato al macero, distrutto, ordinato di distruggere 100.000 copie dell'inserto economico della Repubblica, si chiama affari e finanza, se non erano. Questo perché vi era in prima pagina un articolo probabilmente sgradito al padrone del gruppo Gedi, appunto Gionelka, che è l'amministratore delegato del gruppo finanziario della Holding Exor, nonché anche, credo sia, presidente di Stellantis. Stellantis è la compagnia, ormai soprattutto francese, automobilistica che controlla anche la Fiat. Perché nella prima pagina appunto dell'inserto affari e finanza c'era un articolo sulle contraddizioni, sui contrasti, sulle problematiche tra Francia e Italia, con questo titolo, forse un sottotitolo comunque, i casi STM, TIM e la fuga di Arcelor Mittal dall'ILVA riaccendono le polemiche sul rapporto sbilanciato tra Italia e Francia. Rapporto sbilanciato, tutto a vantaggio francese. Stellantis oggi di fatto dimostra questo sbilanciamento di rapporti, perché i francesi stanno tutelando molto di più gli interessi economici relativi appunto alla produzione di automobili francesi rispetto agli italiani. Ma d'altro canto, ripeto, la famiglia Elkan, Agnelli, la famiglia Elkan, non credo, per me neanche in passato del tutto gli Agnelli, però oggi interesse a tutelare l'Italia ne vedo molto poco, ma ripeto, questa è una mia opinione. Fatto sta che questo titolo non è piaciuto a Molinari il direttore, probabilmente perché pensavo, non so se sia stato imbeccato, ci sia stato un richiesto o meno, che non sarebbe piaciuto appunto alla proprietà a John Elkan. E quindi è stato cambiato, con i casi STM, Team e la fuga di Arcelor Mittal dall'ILVA riaccendono le polemiche. Funzionano quando è il business a guidare, come dire, in realtà funziona bene il sistema se sono le imprese a decidere, quando c'è il business tutto funziona, come dire, l'hanno edulcorato, poi hanno fatto degli altri cambi all'interno dell'articolo, un articolo, il primo della prima versione, firmato da Pons, se non sbaglio, Giovanni Pons, al quale immagino gli hanno chiesto di fare delle modifiche e di firmare questa nuova versione dell'articolo e lui ha detto colpiffero, io non la firmo questa nuova versione, comportandosi con dignità, tant'è che il nuovo articolo sulla prima pagina appunto di affari e finanza, è stato firmato da Walter Galbiati, che è il vice direttore della Repubblica, credo anche responsabile dell'area economica appunto della Repubblica. È avvenuta questa circostanza incresciosa, che chiaramente getta ancora una volta dei dubbi sulla imparzialità, in un certo senso, sull'indipendenza, diciamolo in questo modo, del gruppo della Repubblica rispetto agli interessi del proprietario della Repubblica. E quindi, dato che vi è stata questo intervento del direttore Molinari, che ha mandato al macero, dato un danno economico anche ambientale, 100.000 copie, credo, di questo inserto, i giornalisti del comitato di redazione si sono arrabbiati giustamente, allora la mia solitarietà si sono indignati, hanno sfiduciato con 146 voti a favore, 55 contrari e 35 astenuti, Maurizio Molinari, che ripeto è il direttore editoriale di tutto il gruppo Gedi, ma è anche il direttore responsabile della Repubblica. Tra l'altro Molinari, alcune settimane fa, durante il Festival di Sanremo, ha bloccato la pubblicazione e l'intervista di Gali, che poi dopo che è uscito fuori lo scandalo, l'ha pubblicato il Fatto Cotidiano, l'hanno dovuta pubblicare, sostanzialmente credo fosse venerdì di Sanremo, Gali rilascia un'intervista alla Repubblica, viene impaginata e tutto quanto, poi la sera Gali dice dal palco dell'Ariston stop al genocidio e quindi bloccano questa intervista. Ricordo sempre che dopo aver detto, non so a che ora però, comunque dopo lo stop al genocidio si arrabbiarono anche, forse però dopo, non è legata questa cosa le comunità ebraiche di Roma, addirittura l'ambasciatore di Israel in Italia disse ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni, pensate, dire stop al genocidio e diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e responsabile, probabilmente questa dichiarazione dopo la scelta, non mi ricordo, di Molinari, di bloccare quell'intervista, fatto sta che Molinari l'ha bloccata, il fatto che Diano l'ha saputo, quindi ha svelato questo scoop e poi il giorno dopo Molinari si è difeso, secondo me, peggiorando la situazione, dicendo nessuna censura, semplicemente gli abbiamo chiesto a Gali di rispondere ad una nuova domanda che abbiamo aggiunto su Hamas il 7 ottobre e lui non ha risposto, forse perché stava facendo altre feste di Sanremo, quindi sostanzialmente hanno bloccato l'intervista e comunque l'hanno bloccata, c'è un'intervista concordata, Gali la rilascia, punto, ha finito, però non viene pubblicata per scelta del direttore, già questa cosa aveva indignato giustamente il Comitato di Redazione della Repubblica e oggi si è aggiunta quest'altra vicenda. Avete capito qual è il contesto, no? Un articolo che poteva risultare sgradito alla proprietà perché, come dire, contraddizioni tra Francia e Italia, Stellantis è un'impresa un po' francese, un po' italiana, soprattutto francese e quindi andiamoci lì, no? Edulcoriamo, buttiamo acqua sul fuoco. Cioè, qual è l'obiettivo della stampo? Di un giornale comunque importante, un tempo incredibilmente autorevole come la Repubblica, fare il pompiere oppure accendere le contraddizioni, ma come fai ad accendere determinate contraddizioni se il tuo proprietario ha interessi, i maggiori interessi che ha nulla hanno a che vedere con la libertà di informazione? I cosiddetti editori impuri, perché ripeto, il gruppo Exora, interessi nelle automobili, addirittura ai mezzi militari, chiaramente anche in editoria, c'è il gruppo Gen, la Juventus, in tante altre questioni, no? E poi è una holding finanziaria. Dunque, assistiamo a questo fenomeno in Italia che per me sta pregiudicando in maniera totale la credibilità dei giornali, salvo eccezioni, la presenza di editori impuri, cioè di persone che possiedono dei giornali e li utilizzano anche per tutelare i loro interessi, che nulla hanno a che vedere appunto con la libertà di informazione, con gli interessi specificatamente editoriali. Questo è il punto, è l'enorme conflitto di interesse, ma non soltanto il gruppo Gedi. Per esempio, Angelucci è un senatore, prima di Forza Italia, oggi è eletto con la Lega, prima era deputato di Forza Italia e oggi è senatore della Lega, ha tra l'altro interessi nel settore della sanità privata ed è il proprietario di Libero, il Tempo, il giornale, se l'è comprato recentemente, diciamo, dalla famiglia Berlusconi e ora sta cercando anche di comprare l'Agica, un'importante agenzia di stampa italiana, fondata credo addirittura da Enrico Mattei, appartiene ancora tuttora a Leni e fondata da Enrico Mattei, quando all'epoca Mattei doveva liquidare l'Agip, questo gli chiesero gli americani, anzi i governanti italiani, su import degli americani perché non potevano tollerare gli americani la presenza di un'impresa petrolifera pubblica come l'Agip all'interno di un paese sconfitto durante la Seconda Guerra Mondiale. Enrico Mattei rilanciò l'Agip, tant'è che creò nel 1953 l'ente nazionale idrocarburi e volle anche, come dire, supportare, secondo me anche giustamente, determinate sue decisioni controcorrenti, ma sempre prese nell'ottica della salvaguardia dell'interesse nazionale, anche con un supporto, in un certo senso, della stampa. Si è fondato un giornale, credo, il giorno era, se credo, posso sbagliare, di proprietà dell'Eni appunto questa agenzia di stampa. Credo sia stato proprio lui verificato, credo proprio Enrico Mattei che decise di pubblicare, di fondare l'Agip. Fatto sta che l'Agip è tuttora un'agenzia di stampa di proprietà dell'Eni e se la vuole comprare, Angelucci. Cioè questo è un conflitto di interessi enormi, che credibilità può avere, che libertà di informazione vi può essere, che indipendenza, che autonomia anche intellettuale all'interno di giornali che sono di proprietà di un senatore che sostiene la maggioranza. Prima della Ediforza Italia e oggi della Lega, tra l'altro uno dei senatori più assenti alle votazioni in Parlamento forse della storia repubblicana. Questi sono i cosiddetti enormi conflitti di interessi, morto a Berlusconi uno pensa che siano finiti conflitti di interessi. Grave pensarla così, ci sono ancora. Però vi è questa quasi difesa corporativista, non da parte di tutti, ma da parte di una fetta consistente appunto della stampa, del sistema mediatico, che evita anche oggi di analizzare un caso gravissimo. Poi Molinari andrà dritto, figuratevi, se ne infischierà di tutto questo, andrà dritto, tanto è forte della politica. Immagino, ma magari io mi auguro, anche se sono un ex elettore, soprattutto per i giornalisti di Repubblica, che si dimetta, perché tra l'altro i risultati di Molinari sono stati drammatici. Uno dice, ok, faccio gli interessi della proprietà, vado lì, butto acqua sul fuoco quando c'è qualcosa che può risultare poco digeribile da parte del padrone, però almeno porto dei risultati a casa, no? Alla fine i giornalisti sono pure delle aziende. Invece Molinari ne ha anche questo, perché le vendite di Repubblica da quando lui è direttore sono crollate. Credo che Carlo Verdelli, che era il direttore precedente, che è stato mandato via subito dopo il cambio di proprietà, cioè quando i figli di De Benedetti hanno venduto a Exor, a Gruppo Gedi, quindi agli Agnelli Elkan, la Repubblica, e ha creato appunto questo piccolo impero, la stampa, la Repubblica al secolo XIX e altro, anche molte radio. Credo che l'ex direttore Carlo Verdelli abbia segnato invece, ottenuto i risultati decisamente migliori dell'attuale direzione della Repubblica, Maurizio Molinari, che è un amico di Israele, dichiarato, ha sempre una linea, come dire, molto filo-israeliana, anche oggi che Israele per me appunto sta compiendo crimini vergognosi contro l'umanità. E non a caso un giornalista, io lo riporto nel mio libro e faccio un po' di pubblicità, tra l'altro questo mio libro, Scomode Verità, è in classifica, non mi era mai capitato avere un libro in classifica, sono contento, chiaramente perché è il mio lavoro, ma soprattutto perché davvero sono legato a determinate informazioni che sono contenute in questo libro, cioè spero che possano essere lette queste pagine le più persone possibili, condivise o non condivise, però è un punto, una visione alternativa a quella del mainstream, della gran parte dei giornali o dei telegiornali che sono proprio sdraiati, parecchiati, colpevolmente, dal punto di vista etico e storico, sudditi di Washington, tono della vita in questo momento così drammatico. E quindi sono contento perché è in classifica, Scomode Verità, dalla guerra in Ucraina, al massacro di Gaza e con una prefazione stupenda, super coraggiosa del professor Pier Giorgio Di Freddi. Vi dicevo, nell'ultimo capitolo che si intitola Quello che dobbiamo fare noi, io riporto la lettera con la quale un ex giornalista del venerdì di Repubblica, Raffaele Oriani, ha annunciato le sue dimissioni, veramente un uomo coraggioso, proprio per denunciare questa linea, dal suo punto di vista, anche dal mio punto di vista, debole, gravemente debole del giornale rispetto appunto alla carneficina di Gaza. Cari colleghi e colleghi, ci tengo a farvi sapere che a mal in cuore interrompo la mia collaborazione con il venerdì, collaboro con News Magazine di Repubblica formato da 12 anni ed è sempre stato un grande onore vedere i propri articoli pubblicati su questo splendido settimanale. Eppure chiudo qua, sentite che ha scritto, perché la strage in corso a Gaza è accompagnata dall'incredibile reticenza di gran parte della stampa europea, compresa Repubblica. Sono 90 giorni che non capisco, quindi l'ha scritta ovviamente di qualche mese fa questa lettera. Muogliere vengono mutilate migliaia di persone, travolte da una piena di violenza che ci vuole pigrizia a chiamare guerra. Io infatti nel libro non l'ho mai chiamato guerra, quella che si sta consumando a Gaza, solo un massacro. Penso che raramente si sia vista una cosa del genere così sotto gli occhi di tutti, scrive Raffaele Oriani. E penso che tutto questo non abbia nulla a che fare con Israele, né con la Palestina, né con la geopolitica, ma solo con i limiti della nostra tenuta etica. Magari fra decenni, ma in tanti si domanderanno dove eravamo, cosa facevamo, cosa pensavamo mentre decine di migliaia di persone finivano sotto le macerie. Quanto è accaduto il 7 ottobre alla vergogna di Hamas? Quanto avviene dall'8 ottobre alla vergogna di tutti noi? Questo massacro ha una scorta mediatica che lo rende possibile. Questa è una frase profondissima che ha scritto. E questa scorta siamo noi. Non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori, cioè si è dimesso da Venerdì di Repubblica, con il quale collaborava per protestare contro la linea, chiaramente espressa dal suo generale, dunque dal direttore responsabile Maurizio Molinari, che è, ripeto, stato sfiduciato dal comitato di redazione della Repubblica per l'ultima oscenità, questo è il mio giudizio, appunto l'aver mandato al macero a 100.000 copie di affare finanza per un articolo in prima pagina che ha voluto cambiare, che poteva risultare non gradito alla proprietà del gruppo Gedi, della Repubblica, però dalla famiglia Elca Danielli. Questo è il giornalismo di oggi. Io dico sempre che per questi conflitti di interesse, per questa mancanza di credibilità, si perdono lettori e la stessa ragione, stessi conflitti di interesse o perdita di credibilità che fanno perdere i lettori o addirittura militanti ai partiti politici, quindi assistiamo ad una, e per me questo è un, mentre se la prendono con l'assenza di democrazia altrove, re anche a ragione sicuramente, ma in maniera strumentale alle volte, se la dovrebbero prendere con la perdita di democrazia nel nostro paese, dove se ci pensate, giornali che vendono sempre meno perché le persone non si fidano più del sistema mediatico, non ci credono più per una serie di errori, di contraddizioni, di fake news che la gran parte dei giornali hanno pubblicato in questi anni. E se gli elettori o i militanti smettono proprio di andare a votare, disertano l'Urem, ma questo è un problema per la democrazia o no? Dovrebbe risultare essere il problema principale per giornali e per partiti. Qual è il problema? Che ad alcuni giornali non gli frega niente, neppure dei lettori, alcune proprietà dei lettori, perché utilizzano comunque i giornali, le prime pagine, le rassegne stampa che vengono chiaramente costruite sulla base dei giornali, delle prime pagine pubblicate ai giornali, per fare opinione, per dare magari argomenti ai talk show, per tutelare gli interessi della proprietà di un giornale, che ripeto, sono interessi per lo più del tutto dissimili da quelli meramente editoriali. Allo stesso tempo ad alcuni partiti politici dell'astenzionismo non gli frega niente, perché hanno pacchetti di voti, voto controllato, alle volte voto di scambio, lo vediamo con le inchieste di questi giorni, no? Alle volte addirittura voto di scambio politico mafioso, voto legato alle problematiche sociali in un determinato territorio, alla povertà. Dunque, tanto noi abbiamo questo zoccolo duro che ci consente di essere eletti, dunque se non c'è più un voto di opinione, amen, sarà un problema per quei partiti meno strutturati che hanno, come dire, hanno un legame maggiore con il voto di opinione. Noi tanto siamo un partito d'establishment, ci votano delle persone che anche campano grazie alla politica o grazie al sistema partitocratico, dunque dell'astenzionismo ce ne freghiamo. Questo è il meccanismo, è un dramma per la democrazia. Io vi ho raccontato questa storia, che secondo me doveva essere analizzata maggiormente sulla TV e dai giornali, che invece, salvo delle eccezioni, l'hanno lasciata un po' passare. Perché? Perché svela con chiarezza le contraddizioni non più soltanto del sistema politico, ma di questo sistema mediatico, che francamente è sempre, sempre meno credibile. Grazie a tutti e condividete.